Alcune volte nel mondo materiale si è pure empatici, cioè possono venire le acrime pure per delle situazioni sentimentali che vivono altre lezioni. Probabilmente lo diciamo, quando siamo nel mondo materiale, a volte possiamo essere empatici, simpatici, come si dice? Sì, perché devo muovere la sofferenza delle persone. Affectionate. Affectionate with the other person, cioè soffre. Sicuramente. Sicuramente. Questo è il seguimento di Krishna. Se sei dolce devi essere dolce. E questo vuol dire che stai seguendo Krishna, perché lui è dolce e ti devi essere dolce. Sincere da me. Prabhu is saying that it happens to him. Sincere da me. Sometimes. If you are not sweet, then you are not following to Krishna. Perché se te non fossi dolce, vuol dire che non stai seguendo Krishna. Che non staresti seguendo Krishna. Staresti. You know? Sweetness means you are very close to him, so that sweetness comes to you. Quindi dolcezza significa che sei molto vicino a Krishna. E quindi ti arriva la dolcezza. You become tolerant because of the Krishna. Te diventi tollerante. Yes. Diventi tollerante a causa di Krishna. You see the gopi are very tolerant. Se te per esempio vedi bene, le gopi sono molto tolleranti. Loro sono sempre in circostanze difficilissime. Jatila e Kutila controllo, fight. They don't want to see Krishna. Per esempio Jatila e Kutila sono sempre lì a combattere per non fargli vedere Krishna. ma loro trovano il sistema. Quindi funziona così. Trovare il sistema di scappare. Sei contento, soddisfatto? Sì. Se vuoi aggiungere un'altra cosa, siccome nel lavoro alcune volte è aumentata la tolleranza e la dolcezza, allora alcune volte ti chiedi se va bene. Cioè hai paura che poi sul lavoro ti trovi? Se ne approfittano. Sì, perché io sto in un ruolo che comando, perché sono il padrone della... E allora mi consulto spesso con ma vuoi usciare. Perché Prabhu is saying in my job, my behavior is that I am master of some... because I am an ufficio in a master in some office and he is asking to himself, is it good if I get more sweet, more tolerant? And I spoke with Mapurusha, because also Mapurusha is the owner of the hotel, no? And Mapurusha is advising him because also Mapurusha is the owner of the hotel. If you are sitting in the chair, se sei seduto sulla sedia and you are collecting money, e fai e chiedi delle lemosi, no? Like beggar? No, no, beggar. Collecting money for the company. E quindi se te sei lì in quella posizione e stai facendo i soldi per la compagnia, per il posto di lavoro, you have to be strict to collect money. Devi essere strict. Devi essere stretto su quei ruoli. Devi essere stretto su quei ruoli. E' come un attore. Un attore va al teatro e si comporta in un certo modo. Siccome ti agisci per quella parte che è data da quel posto di lavoro, da quella sedia, devi fare in quel modo. Però quando ti levi dal ruolo, dalla sedia, sei una persona differente. Sei un amico. Sei un amico. Sei un amico. Mantenere. 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 E' come Krishna. Perché se Krishna mi ha dato questo posto, devo fare il mio servizio, il mio servizio proprio in questo posto. E' come un attore. Va bene. Come un attore. Non ti devi identificare. Senza essere coinvolto. No identification. Senza essere coinvolto nella materia. No. Non ti devi essere coinvolto. No. Non ti devi essere coinvolto. Per rispettare la sedia, quello che è fatto. Quindi devi rispettare il ruolo, la sedia, cioè il posto. Il ruolo. Il lavoro deve essere fatto bene. Come Kalindi. Come Kalindi, per esempio. In Switzerland, 300 persone sono arrivati. Arrivano 300 persone dalla Svizzera. E lei guadagna per fare questo lavoro. Per fare questo evento. E se lei non lavorasse in modo attivante a quel ruolo, la cosa non succederebbe. Kalindi organizza per fare un meeting al quale parteciperà. Non per me. Per il programma di Christiane Chandra. Sono il guest o non il guest. Quindi se chi colletta per organizzare quell'evento non fosse preciso in quel lavoro che fa, dopo l'evento non lo fai. Sì. Ho capito. Io dicevo che non mi devo far coinvolgere a quelle dietro al denaro. E lui ti ha detto che è un ruolo. Sì, il ruolo lo faccio. È come un actor. Sì, sì. Come non essere molto coinvolto nel soldi. Sì, sì. Nei soldi. Di essere attacchiato per la musica. Per senso, Dio. Però ho capito che è il ruolo mio. I soldi li devi fare, ma per Christiane. Non mi fate tribolà. Quindi quanti sono arrivati in Svizzera? Stai chiedendo quanta gente arriverà al meeting in Svizzera. Per ora 200, però si aspettano che aumentino. Tutti venivano. Tutti venivano. Tutti venivano. Tutti venivano. Quindi siamo tutti servi di Krishna. Svizzera. Allora, il lavoro che ci dà da fare lo dobbiamo fare. Se ti dà una casa, una figlia, una moglie, una famiglia, uno deve impersonare questo ruolo molto bene. Con distacco. Con distacco. L'attaccamento solo per Krishna. Tu mostri che sei attaccato a tutti quanti in modo bello, insomma. Una cosa fatta bene. Perché vedi Krishna in tutte le entità viventi. Questo è l'attaccamento. Dice io voglio servire Krishna perché lo vedo anche in te. Io ti voglio servire, voglio esaudire il tuo desiderio perché è il desiderio di Krishna che io ti serva. Questo è servizio. Questo è servizio. Questo è servizio. Sì, voi vedete un fisico, un corpo differente, ma dentro quel corpo c'è Krishna. Questa è la coscienza di Krishna. Questa è la coscienza di Krishna. chi avrà. E siccome Krishna è in tutti gli esseri viventi, quindi dobbiamo essere gentili con tutti e aiutare tutti, perché Krishna è in ognuno. E quando è che posso vedere questo? Quando sono cosciente della mia anima. E nella nostra vita dobbiamo sempre rispettare gli anziani, essere rispettosi e anche gli anziani devono essere rispettosi e gentili verso i giovani. Dice questo è come si comporta la gente cosciente. E' importante il nome spirituale? Mataji Saskine, è importante il nome spirituale? Sicuramente. Dice se no come fai a controllare i sensi, il corpo? Perché se no questi se ne vanno in una direzione differente. Il nome spirituale ti aiuta ad essere vicino e a rimanere nella coscienza spirituale. Per esempio lui vede il piccolo Damodara e anche c'è una discepola che si chiama Radika e che ha una bambina si chiama Radika. E' la bimba di Gopika. Quindi questi bambini dopo che sono stati con Sadumaraj per due o tre mesi. E' come se si chiama Radika e gli dice ciao come stai questi, non frega niente, però se gli fa jai Radamohana e questi non ti contenti. E' come se questi bambini sono coscienti di questo canto. E' come se questi bambini sono coscienti di questo canto. E allora cominciano a parlare con delle storie che sono successe con le divinità. E allora parlano anche delle loro divinità. E allora Sadumaraj parla di Radamohana e questi bambini parlano delle loro divinità anche il mio Gopala ha fatto la tale cosa. E allora Sadumaraj gli sfida e gli dice ma cosa te ne frega del tuo Gopala? No, no, io non lo posso lasciare. Gopala si vedi. Gopala si chiedva quindi se la notizia. Gopala si capisce che hanno колopalato? Gopala si chiede. Gopala si E praticamente già da quell'età loro inconsciamente sviluppano questa consapevolezza. Infatti quando io chiamo ad Amo dal telefono lui mi risponde solo se io gli dico rade rade. Vedete? D'amoda se rade rade.